Dal 19 ottobre le biblioteche di Albino, Caravaggio, Casirate d'Adda, Martinengo, Nembro, Rannica, Treviglio e Villa di Serio promuovono l'ormai tradizionale festival dei narratori italiani, giunto quest'anno alla sesta edizione. Il festival si propone, sottolinea il direttore artistico Raul Montanari, di combattere una battaglia decisiva della letteratura in difesa della sua sopravvivenza e per non snaturare la propria vocazione a raccontare criticamente la realtà in cui viviamo. Il festival prende via sabato 19 ottobre presso la biblioteca di Caravaggio e si concluderà martedì 17 dicembre con una serie di incontri con autori affermati e rappresentativi, ognuno dei quali sarà presente presso le varie sedi secondo un calendario prestabilito per sottolineare il contenuto e gli obiettivi che lo scrittore si è prefisso. Due sono i conduttori dei vari incontri, il direttore artistico Raul Montanari, che dirige il festival dal 2008 e che è autore di libri, di racconti e di romanzi di sicuro spessore, e Davide Sapienza, scrittore, redattore e autore di reportage con servizi e immagini fotografiche. L'appuntamento in programma d'Albino è fissato sabato 14 dicembre alle ore 18 presso l'auditorio comunale. L'incontro è previsto con Laura Pariani, laureata in filosofia all'Università degli Studi di Milano e autrice di numerosi romanzi. Da Albino, linea allo studio.